Hello guys, Renan here! Allora signori, la prima cosa che andremo a fare ovviamente sarà il generatore Generatore che ci serve per accumulare energia Abbiamo già visto nelle precedenti puntate come si fa, ma lo rifacciamo insieme anche perchè non mi ricordo sinceramente come si fa Quindi sì, lo facciamo Allora, serve ovviamente un Iron Fornace di cui è stato cambiato tutto il crafting E per prima cosa dobbiamo fare questo, che è un Forge Hammer Abbiamo bisogno di 2, 4, 5 pezzi di ferro, ne abbiamo 4, noi dobbiamo cuocere uno in più Quindi pezzi di ferro, cuocetevi e datemi la carne che è buona, buona la carne E poi abbiamo bisogno degli stick, io mi sono andato a preparare un po' di legna proprio perchè, signori, sapevo Io sapevo che mi sarebbe servita Intanto mettendo una crafting table nella crafting table, sì lo so che è una crafting table section Esce questa crafting table bellissima che è quella della Tinker Construct Me l'avevate scritto in un video, adesso non ricordo quale Ma comunque questa è figa perchè ci mette gli oggetti dentro e, signori, non cascano Bellissimo Ah, sono contento, sì, questa serviva proprio E quasi quasi, ne farei anche un'altra Perchè vedete che vanno insieme alle chest Quindi, teoricamente, se io adesso mi facessi, no scusa eh, bravo Se io facessi questo e poi questo e poi questa la mettessi qui E' brutta da vedere Però va insieme alla, alla chest che mi interessa Cioè quella dei materiali Molto bene, molto comoda, così Va benissimo Allora, iniziamo a fare quello che era il nostro martellino di ferro Che ci interessa Benissimo Adesso ci facciamo un attimo un calcolo Perchè non l'ho fatto Di quanti pezzi ci servono Allora, con uno ne esce uno Semplicemente piatto Benissimo Ce ne servono otto in totale A occhio ce ne servono otto Benissimo, signori Io cuocio e poi ci vediamo, insomma, qui Signori, signori C'è un creeper con... Quello è l'indicatore dei The Sims? Sì Eh, ma... Eh, ma... Ma mi fai buchi a terra Qua già è una groviera Ma dai So che è un po' bruttino, effettivamente Ma, signori, per il momento non ho dirt Allora, utilizziamo questa cobblestone Per chiudere almeno questa parte davanti casa In maniera tale che, appunto, se ci capita qualche mob E dobbiamo scappare Non abbiamo possibilità di cadere giù come dei pirli Perchè effettivamente è quello che sarebbe successo Molto, molto bene Andiamo a mettere un paio di torce E intanto ritorniamo a casa Perchè stavo cuocendo un po' di materiale, appunto Per fare il nostro amato generator Benissimo, signori Allora, ci andiamo a prendere una di queste due fornaci Una l'avevo fatta nuova Perchè poteva tornare utile E soprattutto a sveltire un po' il processo di cottura E adesso dobbiamo andare a battere Suona malissimo Ma dobbiamo andare a battere tutto questo ferro Quindi prendiamo il ferro Prendiamo il nostro martello E lo facciamo diventare iron plate Molto bene A questo punto utilizziamo la nostra amica fornace E facciamo così E poi dobbiamo fare invece la batteria Allora la batteria Io purtroppo non mi ricordo bene il crafting nuovo Servono degli item Ok Dei team casing Benissimo Si fanno così Guardate Sempre con il martello E con degli team ingot Escono le team plate Allora ne servono quattro Quindi vi faccio vedere che con due team plate Escono esattamente quattro team item casing Molto carino Devo dire Un po' diverso Però molto molto simpatico Ci serve ancora Se non mi ricordo male Una team plate Per fare il cavo Di team Non vorrei dire cavolate Adesso vediamo Esatto Ci serve della rubber Però della gomma Che io fortunatamente Oh signori Pensavo di non averne Bene 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 Perfetto Ok Allora ci facciamo adesso Questo piccolo cavo E poi Facciamo tutto Praticamente Il crafting In maniera tale Da poter Andare a fare il nostro generator Ed avere L'inizio di quello che sarà Un po' di energia Perché insomma Penso proprio di sì Intanto tu perché non ti crei? Qual è il problema? Il problema signori È che dovevo fare il cutter Che non mi ricordavo come Che si dovesse fare ovviamente Perché per me è tutto nuovo Molto bene A questo punto Abbiamo il nostro bellissimo Team Cable Andiamo a piazzare I time casing E un po' di redstone Che abbiamo fortunatamente Recuperato Senza Con tanto 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 sudore In realtà Nello scorso episodio Abbiamo bisogno però Di altre tre plate Perché le abbiamo utilizzate Per fare il cutter Il taglierino Penso si possa chiamare taglierino No Più delle tronchesine Mi sa Comunque ecco qua il nostro generator Finalmente Finalmente Allora io Intendo in realtà Ampliare un po' questa zona Perché siamo Davvero Davvero In maniera In modo in una casetta ristretta Adesso Amplio un po' casa E poi vediamo un attimino Dove piazzarlo Andiamo però A mettere prima di tutto Il generator Lo mettiamo qua Nell'angolo Perché dovrebbe venire comodo Questo letto Io direi che Lo possiamo spostare Un secondino E lo mettiamo qui Che mi sembra Forse una postazione Un po' più comoda Eh? Un po' meno ingombrante Almeno per il momento Allora il generator Come vedete Ovviamente è il solito utilizzo Ci mettiamo all'interno il call Lui si carica E produce energia In EU In ticket di EU E questa cosa È comodissima Attualmente La cosa che in realtà Ci preme di più Oltre alla fornace È il macerator O il macerator Come preferite dirlo Quindi andiamo a fare quello Dobbiamo fare La flint Ma ce l'abbiamo La cobblestone ce l'abbiamo Il basic machine casing Che si fa con 8 plate di ferro Quindi 8 pezzi È quello che stiamo facendo E poi L'elettronic circuit Che si fa Con 6 cavi di copper E poi Abbiamo 2 pezzi di redstone E una Plata di Di ferro Una plate semmai Di ferro Ma va bene lo stesso Ok signori Abbiamo già un po' di cose pronte Quindi trasformiamo Questi Tutti quanti in delle plate E siamo a posto Molto molto bene E adesso Andiamo a farci Il crafting Del macerator Io intanto mi sono portato avanti E ho controllato anche quello Della fornace Come si fa E vediamo un attimino Appunto Di fare le cose Alla svelta Allora facciamo Il nostro bellissimo Basic casing Machine casing Eccolo qua Poi dobbiamo fare Invece Il circuito elettronico Per questo ci serve Il copper Che sto cuocendo Benissimo E allora il copper Si fa diventare Prima di tutto Delle plate Poi le plate Si tagliano E diventano dei cavi E una volta Era molto più semplice Tutto ciò Però ok Forse ho fatto un po' troppi cavi Ma vabbè Va bene Va bene Andiamo a farci Tutti i nostri cavetti così Poi il crafting In realtà è sempre il solito Mettiamo Al centro A posto del pezzo Di ferro vecchio Ci mettiamo quella La plate E poi due pezzi di redstone Che ci servono Vieni vieni qua Benissimo Electronic circuit Fatto Bene Adesso andiamo a posizionare tutto Questo va al centro Questo va qui E ci servono due pezzi di gravel Che ho qua No no Non è la gravel Pardon Ma ci servono le tre flint Che ho qui Benissimo Quindi flint Messa E macenatore Fatto signori Andiamo a utilizzare Uno dei nostri cavi in copper Per collegare il macchinario Anche se in realtà Non c'è bisogno Ma noi lo facciamo lo stesso Perché ci passiamo i cavi Per la fornace Che tanto dovranno passare da lì Quindi facciamo esattamente così Guardate Mettiamo cavo 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 E qua sopra ci mettiamo Il maceratore Che ovviamente sta Venendo E lì alimentato Dalla nostra bellissima Dalla nostra bellissima Generator In cui va più coal Però perché così sicuramente Non lo facciamo andare da nessuna parte Quindi vai col coal Oh Bene Bene Molto molto bene Sono contento In tutto ciò signori Io ho finito la gomma E lì c'è un creeper Ma comunque dobbiamo andare a cercare la gomma Perché senza gomma Non possiamo continuare questo crafting Io adesso non so quanti tagli avrò fatto Ma penso un po' Credo che questa puntata Venga leggermente più corta Delle altre Dipende un attimino Da appunto Quanto taglierò Però nel caso Scusatemi Allora tu muori Che mi serve un po' di Un po' di carne Fa sempre bene E dobbiamo cercare Un albero della gomma O più alberi della gomma Serve ancora meglio In tutto ciò Siamo anche vicino a casa Di Roberto Che sarebbe Kaledan E di Andrea Darkim Che adesso Che saluto Prima di tutto E vi ricordo Che sono gli altri due Partecipanti alla serie E se volete Il link del loro canale Sono qua sotto In descrizione Li sto derubando Di questi magnifici alberi Della gomma Signori Ma avevo proprio bisogno Di prenderne un po' Quello è un sapling Questo Si sapling Ottimo Finalmente Finalmente Questi sono molto comodi Vediamo se ce n'è ancora Un pochino Anche se ormai abbiamo Già tutto quello Che ci serve E poi nel caso Torniamo a casa Insomma Signori Visto che qui C'è un sacco Di bella gomma Io sinceramente E siamo su un server Quindi ricrescerà Signori Io sinceramente Me ne prendo giusto Un pochino Poi ovviamente La riporterò indietro Appena ne avremo A sufficienza Per noi Adesso siamo Più che comodi Prendiamo anche questo E siamo a posto 14 pezzi Signori Sono ottimali Ce ne possiamo andare Grazie mille Oh signori C'è un gatto Che bellino Com'è che si prendono i gatti Non mi ricordo Che pesci Forse sì Scrivetelo nei commenti Perché un gatto Da compagnia Lo vorrei proprio In questa serie E poi Gli diamo anche un nome Ma lo faccio decidere a voi Poi il nome del gatto Quindi Prima di tutto Scrivetemi come si prendono Perché non me lo ricordo Ok signori Ci siamo Ci siamo Ci siamo Benissimo Andiamo a fare i nostri cavi Siamo pronti Oh sono contentissimo Sono un sacco Un sacco Un sacco contento Allora Mettiamo benissimo A fare questi qua Poi abbiamo bisogno Di due pezzi Di redstone Una delle nostre Bellissimo iron plate Ottimo E abbiamo il nostro Circuito elettronico Che va così E poi ci mancano Due pezzi di redstone Signori E abbiamo fatto L'electric furnace Finalmente Andiamo anche a piazzare Oh Finalmente Finalmente Qua si accende un po' La prima cosa Che gli facciamo cuocere È un pezzettino Di stone Di cobblestone In realtà Per farla diventare stone E metterla qui Perché va proprio brutto Insomma A metterla cobblestone Oh Sono contento Molto soddisfatto Allora Intanto mi scavo Questa amber Giusto Benissimo E poi Intanto qua c'è la gravel Molto molto bene Questa la mettiamo A posto Abbiamo diverse cose Abbiamo diverse cose È molto buono questo Io inizierei già A fargli cuocere Un po' di cose E a macerare Tante altre di qua Quindi signori Adesso vado a mettere Un po' di coal Nel nostro generatore Tipo Lo riempiamo Fino a 64 E iniziamo A fargli macerare Le cose più importanti Per esempio Il nostro ferro Che ne abbiamo Davvero davvero tanto Quindi insomma Vai qua E macera Divertiti Perché Mi ricordo che era un po' più veloce Comunque delle versioni precedenti Ma appunto Un po' E comunque è molto lento E abbiamo bisogno In realtà Di velocità Se no ci metto sempre Una vita A registrare questi video Una volta macerato Il ferro Diventa così Il crush D'iron ore Che lo andiamo Ovviamente A mettere qua dentro Si cuoce E ci da Per ogni crash D'iron ore Un lingottino E signori Noi possiamo Solo che esserne contenti Perché Andiamo a duplicare Tutto il nostro Scavato In realtà O almeno tutti Gior Che abbiamo scavato E ci da Tanti bel lingottini Che vengono comodi Per esempio Ci potremmo fare Un'armatura Insomma Un po' di cosine utili Si trovano da fare Io In realtà Adesso Prima di tutto Dovrei dormire Perché è notte fuori Ma vabbè Questo poi lo facciamo C'è un rumore infernale Di Di maceratore Come al solito Grazie maceratore Davvero Molto gentile Vorrei automatizzare Il passaggio da macerator A A fornace Ma se mai questo Lo facciamo nel prossimo episodio In quanto questa Dovrebbe forse Essere spostata qua Ci dovrebbe Non mi va per il momento Poi me lo dite voi Se si fa come nelle vecchie mod Ma Mamma ma Io vorrei un po' allargare Non so Signori Lascio voi questa domanda Preferite Che faccia Un'unica grande stanza In cui Appunto Fare questa specie di rifugio In questa montagna E ce la teniamo qua Per il momento Appunto In un'unica grande stanza Oppure Dividiamo i posti Per stanze Nel senso Questa è la prima stanza Se mai scavo qui La bella porticina E andiamo in un'altra stanza Qua in un'altra stanza Qua in un'altra stanza Eccetera 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 Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Signori Io sono contentissimo Di come sta andando Minecraft sul canale Di come vi state Un attimino riattivando Davvero Grazie mille per tutto Mi raccomando Tanti commenti Tanti mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video Di enjoy E crernese con voi Bye 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 bye